Sia lodato Gesù cari figli miei. Cari figli anche oggi vi invito in modo particolare al rinnovamento della preghiera familiare. Pregate cari figli e crescete nella santità affinché la vostra santità sia completa pregate. Lasciate la transitorietà del mondo poiché essa vi allontana dall'amore di mio figlio. Egli vi ama ed io con quell'amore vi guido a lui. Pregate siate perseveranti nella preghiera. Sappiate cari figli che quando attraversate i momenti per voi più difficili sono con voi, vi sono vicina. Grazie cari figli per aver anche oggi risposto alla mia chiamata. Andate in pace cari figli miei. E nella pace dell'amore di Dio io vi saluto e vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore.